La notizia, dunque diciamo nei titoli, viene dalla Gran Bretagna la nuova variante del Covid dopo Omicron, la si chiama XE, ancora più contagiosa di Omicron, anzi figlia di una combinazione tra Omicron 1 e 2, individuata anche in Francia, in Danimarca, che costringe ad aggiornare la lista dei sintomi, aggiungendo 9 nuovi campanelli d'allarme che possono rivelare il contagio. A due anni dall'inizio della pandemia, oltre due anni, sono riconosciuti come sintomi anche il fiato corto, il mal di gola, il mal di testa e secondo l'Agenzia Sanitaria della Gran Bretagna, oltre alla febbre, la tosse continua e la perdita di olfatto e gusto. Vanno aggiunti altri 9 sintomi, dicevamo fiato corto, sentirsi sanchi o esausti, corpo dolorante, mal di testa, gola infiammata, naso chiuso che cola, perdita d'appetito, diarrea, sentirsi male o